Questa ventinovesima edizione del rapporto Istat rappresenta ancora una volta un resoconto di quello che è stato un anno particolarmente difficile, ma accoglie anche quelli che possono essere poi i segnali per avviare quella che è la ripresa che tutti noi in qualche modo auspichiamo. Il rapporto contiene approfondimenti su varie tematiche e soprattutto vuole sviluppare un approfondimento rispetto a ciò che si potrà fare attraverso le risorse che si rendono disponibili, sviluppando quei settori come l'ambiente, come la digitalizzazione, il capitale umano, le infrastrutture, tutto ciò che può aiutare il Paese ad emergere in maniera efficace da una situazione che è stata, come abbiamo saputo tutti, particolarmente delicata ed difficile.